è in arrivo il natale in arrivo il black friday in arrivo insomma il periodo dedicato agli acquisti e noi ogni anno andiamo ad aiutarvi con alcune alcuni video alcuni contenuti specifici per andare a individuare solo i migliori prodotti per specifiche esigenze oggi vediamo infatti i migliori smartphone fotocamera ovviamente puntata che si aggiunge a top smartphone di settimana scorsa e poi arriveranno altre ulteriori saranno invece pubblicate su tutto tech il nostro secondo canale che vi lascio l'incatto in iscrizione mi raccomando iscrivetevi per non perdere perché lì ci occuperemo più di tecnologia a 360 gradi ma iniziamo con questa puntata ovviamente al solito suddivido la classifica per fasce di prezzo e per ogni fascia di prezzo vi segnalo due prodotti più uno che potrebbe essere comunque interessante iniziamo allora iniziamo da galaxy a 41 la cui peculiarità principale a mio avviso come dico sempre è la compattezza sono davvero pochissimi di smartphone compatte anzi questa classifica sarà praticamente il solo i sensori ottici sono da 48 megapixel f 2.0 sensore principale 8 megapixel grande angolare da 123 gradi e poi un sensore di profondità da 5 megapixel qui la qualità è la solita di samsung ovviamente su fascia di prezzo più più bassa non aspettatevi miracoli ma comunque qualche soddisfazione soprattutto in ambienti ben illuminati riuscirete a tirarla fuori la seconda opzione è redmi note 9 pro che da poco è sceso sotto i 200 euro quindi diciamo che offre un comparto fotografico di fascia superiore a un prezzo sicuramente accattivante i sensori sono ben 4 64 megapixel f 1.9 il sensore principale 8 megapixel quello grande angolare 5 megapixel il macro e 2 megapixel di profondità per migliorare un po i ritratti ma ci riesce ben poco anche qui i problemi sono più o meno gli stessi di galaxy 41 ovviamente in ambienti ben poco illuminati e dove fa maggiore fatica però da sottolineare che comunque riesce a limare un pochetto il rumore non spara i colori come solitamente fa samsung e per questo offre una resa un pochettino più realistica seppur meno piacevole l'alternativa di questa fascia è poco x3 nfc uno smartphone molto valido 64 megapixel standard f 1.9 più una ultra grande angolare da 13 megapixel con apertura di campo da 120 gradi insomma una bella ultra grande angolare un prodotto che inserisco a parte perché costa leggermente sopra 209 euro in questi giorni e mi aspetto che durante il black friday scenda subito sotto i 200 euro e quindi a quel prezzo best buy sotto i 300 euro partiamo con xiaomi mi note 10 light che inserisco in questa classifica ma che non ho praticamente mai inserito in top smartphone per un semplice motivo che il processore ed ergonomia sono inferiori parliamo di un 730g snapdragon contro un 765g rispetto al mi 10 light che da questo punto di vista è più recente ma sul comparto fotografico lui offre qualcosa di più con questo sensore principale da 64 megapixel f 1.9 affiancato da un ultra grande angolare da 8 megapixel f 2.2 anche qui abbiamo un sensore macro e uno di profondità vi basti pensare che in un confronto ho selezionato mi 10 light come il miglior smartphone per fotocamera fra quelli con connettività 5g ed economici quindi potete capire quanto è buona la fotocamera di questo mi note 10 light per citare un altro esempio lui ha lo stesso sensore ottico del poco phone f 2 pro che costa qualcosa di là di più altrimenti galaxy a 51 48 megapixel f 2.0 12 megapixel ultra grande angolare f 2.2 e anche qui sensore macro e di profondità entrambi da 5 megapixel la sua pecca principale è che non è uno smartphone così scattante come dovrebbe e a tal proposito io vi suggerisco di cercare la variante 5g che su amazon per esempio è disponibile a 299 euro e all'interno ha lo stesso processore del galaxy sdc light ovvero l'exynos 980 davvero molto interessante perché sulle restanti specifiche tecniche invece rimane invariato l'outsider su questa fascia sotto i 300 euro è huawei nova 5t che metto un po da parte solo perché è ormai un po vecchiotto ha un anno sulle spalle ma è ancora molto valido soprattutto se cercate uno smartphone con delle specifiche tecniche un pochettino più prestanti e lui ha le app di google quindi nessun problema e lato fotografico 48 megapixel più 16 megapixel ma il sensore principale è davvero di buon livello sotto i 400 euro iniziamo ad alzare un po il livello e iniziamo con poco phone f2 pro il cui difetto principale dal punto di vista ergonomico nel peso dato che sfiora i 220 grammi comunque ottimo display e soprattutto interessante comparto fotografico con un sensore da 64 megapixel f1.9 come ricevo lo stesso di minotto e 10 light un tele obiettivo da 5 megapixel un tele obiettivo con ingrandimento 2x un ultra grande angolare da 13 megapixel e poi un sensore di profondità da 2 megapixel qui la qualità inizia a fare passi avanti con foto gradevoli anche in condizioni di scarsa luminosità anche con la ultra grande angolare vi segnalo poi che all'interno c'è il processore snapdragon 865 e lui di fatto è il più economico con questo processore oppure realme x3 super zoom che ha una peculiarità che finora nessun altro smartphone aveva ovvero ha portato su questa fascia di prezzo un sensore tele obiettivo a periscopio con ingrandimento 5x da 8 megapixel f3.4 davvero interessante e affiancato a un sensore principale da 64 megapixel f1.8 quindi bello aperto e 8 megapixel ultra grande angolare f2.3 con angolo di capo di 120 gradi circa realme ha un software che non gli permette di scattare foto di altissima qualità ma ecco l'aspetto tecnico di questo sensore tele obiettivo è molto interessante perché appunto è il primo e il più economico con questa specifica in ogni caso anche nelle restanti specifiche tecniche è un prodotto particolare con il display IPS lcd a 120 hertz di refresh rate e il processore snapdragon 855 plus quindi l'ultimo top di gamma dello scorso anno di qualcomm terza alternativa sotto i 400 euro è galaxy a 71 che metto da parte per gli stessi motivi di Huawei Nova 5T perché ormai ha qualche mese sulle spalle essendo di inizio anno comunque uno smartphone alternativa molto valido perché ha un ottimo display e un comparto fotografico che ovviamente è degno di nota con un sensore principale da 64 megapixel f1.8 quindi bello aperto e poi un ultra grande angolare da 12 megapixel f2.2 sotto i 500 euro partiamo con Huawei P30 Pro tra l'altro c'è il new edition e la colorazione silver a 499 euro su ebay se lo trovate assolutamente da acquistare un prodotto che l'anno scorso abbiamo definito il miglior camera phone non a caso lui ha implementato un nuovo filtro ry yb che ha restituito dei risultati eccellenti sotto diversi punti di vista sul retro è un sensore da 40 megapixel f1.6 quindi bello aperto come sensore e stabilizzato otticamente anche bello grande 8 megapixel f34 con zoom ottico 5 per il sensore a periscopio 20 megapixel f2.2 ultra grande angolare oltre al sensore top per la messa a fuoco è uno smartphone che ormai ha più di un anno sulle spalle quindi valutato attentamente in alternativa c'è anche Huawei P40 che invece è molto più recente e anche leggermente più compatto ma non ha le applicazioni di google in alternativa Samsung Galaxy S10 Lite uno smartphone che consiglio in genere anche per il processore snapdragon invece che exynos il cui successore è l'S20 fan edition ma che nella versione 5g costa ancora troppo quindi lui resta molto valido con un sensore principale da 48 megapixel f2.0 affiancato da una ultra grande angolare da 12 megapixel f2.2 e un sensore macro da 5 megapixel la qualità la vedete colori belli sparati al solito per Samsung ma apprezzabili e oggettivamente molto più socializzabili a differenza del P30 Pro che punta tutto sulla realisticità dei propri scatti al solito non fatevi ingannare dalla nomenclatura Lite perché lui di Lite non ha assolutamente niente né dal punto di vista delle dimensioni né dal punto di vista delle performance o della batteria qui la terza alternativa è Xiaomi Mi 10T Pro uno smartphone che mi è piaciuto per molti aspetti soprattutto quello fotografico che lato software ha delle aggiunte particolari di Xiaomi come cie luminose insomma alcune caratteristiche che aveva solo Huawei fino a poco tempo fa e ha un sensore da 108 megapixel f1.7 e un ultra grande angolare da 13 megapixel f2.4 oltre ovviamente a una macro lo metto un po da parte perché lui ha un prezzo ancora superiore ai 500 euro quindi se durante il Black Friday lo abbassano subito sotto sicuramente da valutare attenzione però che pur avendo un display a refresh rate a 120 hertz purtroppo è a tecnologia LCD. Sotto i 700 euro partiamo con Huawei P40 Pro che nella prima metà dell'anno ho definito il miglior camera phone superando il P30 Pro dello scorso anno oltre al Mate 30 Pro. Il P40 Pro Plus ovviamente lo sul classa ma davvero di poco e quindi lui resta su questa fascia di prezzo la alternativa principale. La prima cosa che dovete sapere però su questo smartphone è che non ha le applicazioni di Google quindi se questo per voi è un problema dovete passare oltre altrimenti lui è una delle alternative migliori anche perché il prezzo sta scendendo lentamente. Il sensore principale da 50 megapixel f1.9 davvero ampio bello grande quindi riesce a catturare maggior luce e maggiori informazioni. Il secondo sensore da 12 megapixel teleobiettivo con ingrandimento 5x a periscopio e poi il terzo è un 40 megapixel f1.8 ultra grande angolare oltre anche a un sensore TOF 3D per migliorare la messa a fuoco. La peculiarità dell'hardware di Huawei è avere un filtro RYYB che ha dei vantaggi dal punto di vista della qualità delle fotografie e si nota anche in notturna dove lui anche grazie a un software molto ottimizzato riesce a realizzare degli scatti molto molto interessanti e soprattutto molto realistici. L'alternativa diretta a questo smartphone è ovviamente Samsung con i suoi Galaxy S20, S20 Plus e S20 Fan Edition. Quest'ultimo un po' meno interessante soprattutto per il teleobiettivo che è da 8 megapixel invece di 64 megapixel ma ha il vantaggio di avere un processore Snapdragon 865 nel qual caso voleste un processore di Qualcomm. Tutti e tre sono allo stesso modo interessanti anche se con lo stesso difetto o pregio chiamatelo un po' come volete ovvero il fatto che il software di Samsung tende a saturare eccessivamente un po' i colori e per questo va a falsare le fotografie anche se oggettivamente sono molto più gradevoli visivamente quindi più condivisibili. Gli altri due sensori sono da 12 megapixel grandangolare f1.8 e poi una ultra grandangolare anch'essa da 12 megapixel f2.2 entrambi con stabilizzazione una ottica l'altra elettronica. E poi alternativa vivo x51 uno smartphone recentissimo con una peculiarità la gimbal camera avere una tecnologia innovativa che gli permette sul sensore principale di andare a stabilizzare i micromovimenti di 2-3 gradi maggiore rispetto al classico un grado della stabilizzazione ottica. I sensori sono davvero interessanti principali da 48 megapixel 8 megapixel periscopio con ingrandimento 5x ottico 13 megapixel con ingrandimento 2x e infine 8 megapixel ultra grandangolare insomma un prodotto molto valido ma al tempo stesso anche molto costoso per questo io lo metto un po' da parte disponibile solo da Auronix tenetelo d'occhio se scende assolutamente interessante da comprare. E a proposito di Samsung ecco altri due prodotti che vado ad inserire nella fascia top parlo di S20 Ultra e Note 20 Ultra il primo preferibile perché cala un pochettino più velocemente di prezzo il secondo per una qualità generale migliore. Entrambi comunque hanno un sensore principale da 108 megapixel f1.8 un teleobiettivo da 5x ottico per il Note 4x per l'S20 Ultra e infine un ultra grandangolare anch'essa da 12 megapixel f2.2. La principale differenza fra i due smartphone è che mentre S20 Ultra riesce ad arrivare a uno zoom digitale 100x il Note 20 Ultra si ferma a un 50x ma non è affatto un difetto anzi perché a 100x anche S20 Ultra offre risultati davvero scadenti andando a impastare molto l'immagine. Insomma meglio non fare il passo più lungo della gamba e anche Note 20 Ultra è più bello secondo me esteticamente. Altrimenti un'altra alternativa di Huawei anch'essa senza servizi Google quindi premessa doverosa. Parlo di Huawei Mate 40 Pro che si comporta davvero benissimo dal punto di vista fotografico. La ricetta è sempre la stessa per la casa cinese quindi un sensore principale da 50 megapixel questa volta f1.9 con un sensore aperiscopio teleobiettivo con un ingrandimento 5x da 12 megapixel e un ultra grandangolare da 20 megapixel f1.8 quest'ultima la più interessante o comunque innovativa perché è bella ampia pur essendo ultra grandangolare quindi anche di notte riesce a scattare delle belle fotografie. Meglio di lui molto probabilmente solo il Mate 40 Pro Plus di cui però a momento non si conosce l'eventuale arrivo in Italia. È uno smartphone molto costoso ma al tempo stesso offre molta qualità e molta tecnologia con il nuovo Kirin 9000 il primo processore a 5 nanometri con modem integrato 5G. Insomma un concentrato tecnologico davvero interessante. E poi visto che la fascia di prezzo è così larga facciamo un'eccezione e inserisco due prodotti outsider parlo di Oppo Find X2 Pro e Sony Xperia 5.2. Il primo è arrivato praticamente a maggio e ha la peculiarità di avere un sensore aperiscopio con ingrandimento 5x stabilizzato otticamente oltre a un sensore principale da 48 megapixel f1.7 e un ultra grandangolare sempre da 48 megapixel f2.2. Uno smartphone versatile dal punto di vista fotografico e che riesce ad essere anche molto fedele dal punto di vista dei colori. Invece Sony Xperia 5.2 ha una particolarità ovvero il fatto che dovete essere utenti consapevoli e capaci di utilizzarlo o meglio di saperlo sfruttare al meglio. Questo perché ci sono due applicazioni fotocamere. La prima è quella classica che però col punto e scatta non riesce a valorizzare i sensori di cui è dotato mentre ci sono in aggiunta due applicazioni dedicate ai propri professionisti e che riprendono un po' l'interfaccia e le funzionalità delle fotocamere Sony. I sensori di cui è dotato sono da 12 megapixel f1.7 stabilizzato otticamente anche il teleobiettivo con un ingrandimento 3x e da 12 megapixel anch'esso stabilizzato e infine una ultra grandangolare da 12 megapixel f2.2. E questa era un po' la classifica aggiornatissima dei migliori smartphone per fotocamera. Ovviamente vi lascio il link alla guida completa con anche le migliori offerte e il link all'acquisto in iscrizione così potete andare a comprare lo smartphone dove conviene di più con i prezzi aggiornati costantemente. Ma per questo video era davvero tutto ci vediamo la prossima settimana con i migliori smartphone per batteria e ci sono delle novità anche lì interessanti. Lasciate un bel like se questo video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e noi ci siamo al prossimo video. Ciao!